Anche in questo 2019, nei weekend del 14 e 15 settembre, 21 e 22 settembre, ritorna per il 44esimo anno consecutivo la Sagra della Polenta a Santa Maria in Selva di Treia. Questa Sagra comprende, si svolge sempre all'ombra del campanile, questo è un po' il senso dell'aggregazione a questa Sagra, di tutta la parrocchia, quindi è lavoro ma anche aggregazione è un modo per ritrovarsi tutti i componenti, quasi tutti i componenti della parrocchia, quindi è un modo per stare anche insieme, oltre al lavoro. Quanti siete in tutto? Ma non le so quantificare perché a volte siamo in tanti, a volte in meno, perché come chiamiamo questa gente, però non è che nessuno ci dà una risposta per la sua presenza, quando ho tempo vengo, quindi però siamo sempre un bel gruppo. Una manifestazione questa molto sentita da sempre anche da Don Peppe. Esattamente, sì sì, è lui che fin dall'inizio, dalla prima edizione di questa Sagra che è un po' il motore. Tante le specialità gastronomiche locali da degustare, quest'anno avete inserito nel ricco e variegato menù anche qualche novità. Dunque la distribuzione della polenta avviene il sabato e quest'anno c'è una novità, le richiestissime pannocchie, siamo tornati. E poi la polenta fatta in diversi modi. Esattamente, bianca e rossa, la rossa con l'anatra, papera in dialetto, bianca con maiale e salciccia e così. E poi c'è anche la bianca con baccalà e poi la grigliata, le patatine, l'insalata, la pasta al forno, insomma. E poi anche le gustosissime frittelle di polenta. E poi il comitato si dà sempre da fare per allietare anche le serate con dei gruppi che verranno lì a Santa Maria in Selva a suonare. Esatto. Praticamente questa Sagra, questa festa inizia il 12 perché il 12 ci sarà un bellissimo torneo di burraco, poi il venerdì 13 c'è la gara di briscola, non può mancare. E poi il sabato, ripeto, il sabato sera ci sarà l'orchestra dei Gulliver. E poi la domenica al mattino il raduno delle Vespe, che siamo arrivati alla tredicesima edizione, che è riuscitissimo questo raduno. Ci saranno i pistacoppi e poi la sera Carpinetti, famosa orchestra dei Carpinetti, Roberto Carpinetti. E Roberto Carpinetti ritornerà anche domenica 22 settembre, mentre sabato 21 spettacolo con i balli popolari del Mirage Band. Esatto. E poi non possono mancare i giochi popolari e la ricca pesca di beneficenza. Sì, sì. Questa viene allestita sempre dalle ragazzine lì del posto. Ricordiamo che la manifestazione si terrà anche in caso di pioggia. Sì, esatto. In caso di pioggia sarà funzionante un servizio di bus navetta. Invitiamo quindi chi non fosse mai venuto a partecipare a questa 44esima edizione nei due weekend di settembre. Esatto, sì. Venite numerosi.